Ciao a tutti cari amici e amiche, ben ritrovati in un nuovo video qui su Il Tavo Man. Questo è un video dedicato alla fortuna in cui vi darò dei numeri dell'otto da giocare e questi numeri sono validi per la settimana dal 10 al 16 ottobre 2022. Come ho detto nei precedenti video, perché questo è il secondo video che faccio, tentiamo la fortuna. Nulla è certo, ci tengo a sottolinearlo, questo è un video di intrattenimento, la certezza non c'è della vincita, è solamente un gioco così come è un gioco quello dell'otto. Dovete essere voi responsabili e siete voi i responsabili di come e di quanto giocate. Ok? Quindi mi raccomando, non giocate cifre esorbitanti e giocate sempre con cognizione di causa, non buttate via soldi così a vuoto. Giocare sì, ma poco, poco per volta, anche puntando pochi euro alla volta. Mi raccomando, perché la certezza della vincita non c'è, non ce l'abbiamo. Ok? Ora, per chi non conoscesse questo video, e se va vi invito a condividere sui vostri social questo video per far conoscere anche i vostri amici i numeri da giocare, è un video in cui andremo a tentare la fortuna. Vi darò dei numeri che possono essere o due numeri, o tre numeri, o quattro numeri, o cinque numeri, per tentare l'angolo, il terno, l'acquaterno, la cinquina. E poi vi darò sempre due ruote da giocare, e in più vi consiglio caldamente, in ogni puntata, di giocare su tutte le ruote. Giocate questi numeri per tre, quattro volte, per tre, quattro giocate, anche se per caso i numeri escono già. Però manteneteli giocati per tre, quattro volte. Ok? Ora, per prima cosa, questo è il dado, il dado della fortuna, con questo dado andiamo a scoprire quanti numeri vi devo, diciamo, consegnare, grazie alle carte, per questa settimana. Quindi concentriamoci, quanti numeri dovrò darvi per questa settimana. 1 non può essere, perché deve essere da 2 a 5, quindi quanti numeri devo dare questa settimana. Ecco qua, tre numeri. Quindi, in questo caso, vi darò tre numeri su due ruote. Ok? Ora, per prima cosa, queste sono le carte, le carte dell'otto che ho creato io. Prima cosa, facciamo come l'altra volta, vi do una formula che è stata ideata da Cristiano Tenka, è una formula che dovrebbe attirare comunque la fortuna. Questa formula va ripetuta tre volte in questo caso, ma il mio consiglio è di ripetere tre volte per tre volte al giorno, anche il giorno della giocata in cui andate a puntare appunto i numeri. Ok? Quindi, concentriamoci, focalizzamoci sulla fortuna, sul successo, ok? sull'abbondanza, sui soldi che vi arrivano. Fate dei respiri, buttate fuori l'aria e ripetete insieme a me. Rotam fortune converto promeo. Rotam fortune converto promeo. Rotam fortune converto promeo. E buttate fuori l'aria. Ok, quindi, incominciamo con darvi i numeri per la settimana dal 10 al 16 ottobre 2022. Vediamo il primo numero su cui puntare. Quindi in pratica vedrò un terno. Il primo numero è il quattordici. Il secondo numero è l'ottantaquattro. E il terzo numero è l'otto. Quindi questi sono i tre numeri da giocare questa settimana. Numero quattordici, numero ottantaquattro, numero otto. Stoppate il video, segnatelo. E adesso vi darò le due ruote su cui giocare. Mi raccomando, però, oltre a queste due ruote, giocate sempre su tutte. Quindi vediamo questi tre numeri dove devono essere giocati sulla ruota di Cagliari e sulla ruota di Firenze. Ok, mettiamoli qui. Quindi, ripetiamo un'altra volta. Numero quattordici, ottantaquattro e otto su Firenze e Cagliari e su tutte. Giocatele per tre, quattro volte. Allora, la settimana ovviamente è dal 10 al 16 di ottobre. Ovviamente le giocate sono tre volte alla settimana, ma io vi consiglio di giocare anche quattro volte. Ok? Anche quindi per il martedì successivo, se volete. Poi ovviamente siete liberissimi, perché vi ricordo, siete voi responsabili di come e di quanto giocate. Questo è proprio un intrattenimento, un gioco e io non voglio incitare nessuno a spendere troppi soldi per tentare al gioco. Questo assolutamente. Ok? In bocca al lupo a tutti, buona fortuna, in culo alla bolena, ripetete tre volte, tre volte al giorno la frase che vi ho detto, che trovate anche scritta nei minutaggi precedenti e vi aspetto sempre qui sul Tagomè. Ciao a tutti, alla prossima!